Non fossero bastati i timori legati alla crisi del mercato oreca e delle esportazioni, con la vendemmia ormai alle porte fra le colline dell'Oltrepo serpeggiano altre incertezze. Sono quelle legate all'arrivo di migliaia di braccianti agricoli per la raccolta dell'uva che quest'anno dovrà fare i conti con le nuove prescrizioni sanitarie anti-coronavirus. ATS Pavia e associazioni agricole sarebbero già al lavoro per definire nuovi protocolli sanitari di sicurezza, ma al momento le aziende sono ancora all'oscuro di tutto. Anche negli anni scorsi i vendeviatori, circa 2000 in gran parte provenienti dall'Europa dell'Est, venivano sottoposti a una visita medica prima di iniziare l'attività e una volta ottenuto il certificato questo rimaneva valido anche in caso di assunzione a tempo determinato in altre aziende. Ma ai controlli sanitari classici quest'anno, come detto, ne dovrebbero essere richiesti altri legati al Covid-19 e la misurazione della temperatura corporea prima di prestare servizio potrebbe non bastare, sebbene il lavoro agricolo permetta di norma un sufficiente distanziamento e si svolga essenzialmente all'aperto. Intanto i contatti fra le aziende agricole e i lavoratori esteri, molti dei quali arrivano inoltre po' per la vendemia da diversi anni e alcuni anche da generazioni, sono costanti, ma anche nei rispettivi paesi d'origine non sembrano esserci al momento indicazioni chiare. In caso di assenza di protocolli sanitari transnazionali, ATS Pavia potrebbe quindi decidere autonomamente di effettuare tamponi o test sierologici a tappeto a tutti i nuovi arrivi o disporre un periodo di quarantena a scopo precauzionale.